La riapertura del Rotorio della Monna e la Rocca dedicato a San Luigi è una grande occasione non solo per la piccola parrocchia ma per tutta la nostra comunità che vede nei ragazzi, nei bambini una potenzialità grandissima e allora vogliamo, come già è accaduto, spendere le nostre forze per farli crescere in un luogo sano, bello, accompagnati da giovani più grandi e da adulti che già si sono spesi tanto per sistemare il locale, organizzare tutto e da domani siamo pronti per cominciare Sicuramente è un segno di speranza l'apertura dell'Oratorio e di un'attenzione anche nei confronti delle nuove generazioni creare punti di riferimento per i ragazzi, per i giovani, significa anche poter creare occasioni per trasmettere quei messaggi e quei valori che il Vangelo ancora vuole inculcare nel cuore dell'uomo quindi ci auguriamo che veramente possa essere un'esperienza formativa, un'occasione anche per coinvolgere le famiglie e per creare un vero senso di comunità L'Oratorio ha sempre rappresentato per la Madonna Rocca uno dei centri privilegiati e infatti dalla sua nascita fino ad oggi anche il padre Mattino come parroco ha veramente aperto queste porte perché l'azione possa portare a questa nuova generazione di ragazzi ecco un gruppo impegno, una più conoscenza